Ciao ragazzi sono 7 e benvenuti in un nuovo video Ragazzi sono qui per raccontarvi i primi due episodi della quinta stagione, la stagione finale di Gomorra e quello che ho da commentare così proprio dopo ovviamente mi sono preso dei momenti per pensare a quanto ho visto alcuni giorni e quello che volevo commentare è una cosa molto semplice Gennaro Savastano ha fatto la più grande cazzata della sua intera esistenza e adesso vi spiego il perché Dunque non vorrei soffronarmi troppo sul primo episodio che ho previsto bene o male che cosa ci sarebbe stato e anche era abbastanza prevedibile cioè il fatto che la questione tra Gennaro Savastano e i fratelli Levante non si fosse chiusa che hanno tentato di organizzare una retata per il funerale dei mamma e papà Levante tuttavia Gennaro non riesce a concludere l'agguato per colpa di un tradimento interno in quanto i genitori dei Levante vengono seppelliti nel cimitero di Roma Gennaro tenta con l'aiuto dei suoi complici di andare a fare una retata contro appunto i fratelli Levante ma non ci riesce per un tradimento interno tuttavia dopo aver fatto questo fallimento riesce con una strategia a convincere non solo i fratelli Levante ma anche Don Agnello e suo nipote o diplomato a andare tutti insieme in un punto convinti che il suo alleato l'avrebbe tradito e invece non è così infatti il suo caro alleato Don Antonio Don... non mi ricordo come si chiama esattamente comunque non lo tradisce ovviamente e invece appunto inizia a uccidere gli uomini di Don Agnello o diplomato viene preso in quanto non riesce a fuggire e viene portato costretto a andare nella villa di Don Agnello che viene costretto appunto a testimoniare la morte di suo nipote infatti Gennaro lo prende, lo porta in casa, lo mette sul divano e dice a Don Agnello guardate volevo farvi vedere la morte di vostro nipote bam! e gli spara a O Diplomato quindi O Diplomato ci lascia non è stato mai un personaggio che mi ha appassionato e più di tanto devo dire Don O Diplomato anche mi stava abbastanza sulle balle tuttavia insomma ha avuto un certo sviluppo che però ovviamente ha trovato il tempo che ha trovato ed ero convinto che dopo la morte del fratello anche lui sarebbe durato a lungo e infatti l'hanno fatto fuori subito nella prima episodio così come Gennaro ha fatto fuori anche Don Agnello tagliandogli letteralmente la testa infatti se vi ricordate nel film L'Immortale Ciro riceve sul finale del film la testa di Don Agnello in una scatola ed è appunto Gennaro che gliela taglia dopo essersi fatto rivelare che Ciro era ancora vivo e che restava a riga in Lettonia se non mi ricordo male comunque ha preso la notizia Gennaro prima uccide Don Agnello e poi parte alla volta di Riga ora vorrei trattare più nel dettaglio il secondo episodio con un focus di attenzione alla scena finale in cui Don Agnello rivela la posizione di Ciro Gennaro compie un gesto che non ha fatto da parecchio tempo ossia quello di crollare psicologicamente ed emotivamente una volta scoperto che Ciro è ancora vivo perché Ciro gli ha salvato la vita ed è convinto di averlo ucciso e per tutto questo tempo, in tutta la durata di Gomorra 4 Gennaro era convinto di aver ucciso Ciro tuttavia scopre che è ancora vivo ma il crollo che ha successivamente a questa notizia è qualcosa su cui riflettere che ci aiuterà più avanti nel trattare la seconda puntata il secondo episodio nel secondo episodio Gennaro va a Riga e si rincontra con Ciro il famoso incontro quando abbiamo visto sul finale del film L'Immortale nel quale si avvicinano l'un l'altro camminando ecco, Gennaro proprio non è che gli corre incontro cioè gli corre incontro ma aspetta un po' prima di abbracciarlo poi chi gli chiede ovviamente perché non sia tornato prima e Ciro risponde che per lui tutto è morto e perché essenzialmente non c'era più niente per cui vivere infatti noi sappiamo che Ciro Di Marzio è un personaggio ormai che non ha più alcuna motivazione in realtà per vivere in quanto gli è stato tolto tutto tutta la sua famiglia tutto ciò a cui teneva è stato distrutto completamente annientato ed è un uomo morto che cammina letteralmente incapace di morire in quanto l'Immortale non è qualcosa di figo cioè una benedizione ma è la sua maledizione l'uomo che non può morire Ciro Di Marzio è veramente doomed to live come dice la grandiosa colonna sonora di Gomorra cioè condannato a vivere non trova mai non può avere mai pace e a questo Gennaro interpreta secondo me male le parole di Ciro in quanto abituato a tradimenti a destra e a manca non capisce che Ciro ha veramente fatto quello che ha fatto per proteggere lui e la sua famiglia cioè Ciro teneva veramente a Gennaro Gennaro però non capisce questa cosa qui e la cosa si diverrà a essere fatale estremamente fatale la sera stessa incontrano grazie al contatto russo di Ciro conosciuto nei film di Immortale cioè Dimitri incontrano questo magnate russo Iva-I che appunto cerca di stipulare un contratto con Ciro e Gennaro per vendergli della cocaina vendere la cocaina per aprire appunto una nuova rotta sul mercato tra appunto Napoli e la Lettonia tuttavia dopo questo incontro Gennaro tradisce effettivamente Ciro uccide Dimitri e il suo complice e prende Ciro e lo porta in una sorta quello che verrà poi definito sempre da lui un gulag letteralmente è un gulag cioè un campo letteralmente di concentramento piccolo ovviamente non gigantesco piccolo in scala per contenere solamente lui lui resterà lì come spiega Gennaro una volta che lo incontra attraverso la porta c'è un piccolo spioncino con cui possono parlare lui dovrà restare lì non solo prigioniero ma dovrà soffrire ogni giorno della sua vita in quanto non potrà mai uscire da quella stanza non capirà se c'è il sole se c'è piove che c'è freddo c'è caldo se c'è sole se c'è appunto c'è la notte insomma quello che vuole fare Gennaro è letteralmente spegnere Ciro di Marzio annientare la sua percezione la sua persona in quanto Gennaro è convinto che Ciro l'abbia tradito per essere di più di lui ma questo è un pensiero che non è corretto dal mio punto di vista in quanto io penso almeno io penso che Ciro abbia tentato veramente guardate tutte le azioni che ha fatto per esempio in Gomorra 3 tutte le azioni che ha tentato per salvarlo è addirittura arrivato a uccidersi per salvare Gennaro il che non ha senso appunto che Gennaro lo infili dentro in questo gulag per farlo soffrire e alla fine Ciro ovviamente sbrocca perché ovviamente capisce che Gennaro non ha mai tenuto chiaramente al suo gesto o a lui e gli dice che lui è sempre il secondo dietro di lui suo padre cioè Pietro Savastano voleva avere Ciro come figlio non Gennaro e che lui è sempre il ragazzino che gli va dietro e questo è vero e questo è estremamente vero infatti dopo che Gennaro se ne va dal colloquio con Ciro in cui Ciro dice prega che io non esca mai da qui già quando ho detto quella frase io sapevo che sarebbe scappato già sapevo che sarebbe scappato da quella frase cioè quando l'ha detto scappa in un modo o nell'altro scappa non so come ma scappa Gennaro ha un'altra caduta mentre torna in macchina verso il porto un'altra caduta psicologica ed emotiva tanto che deve fermarsi con la macchina per respirare perché non sa reggere il confronto non ci riesce con Ciro non ce l'ha mai fatta da quando si conoscono non è mai non ha mai saputo convivere con il fatto che Ciro fosse migliore tra virgolette ovviamente perché si parla sempre di criminalità ma migliore di lui in praticamente tutto è questa la cosa che gli rode tantissimo ma è anche stata una stronzata infilarlo lì dentro perché non ha capito che in effetti Ciro voleva solo proteggerlo facendo questo Ciro adesso lo odia a morte e vuole risolvere le cose e io credo che paradossalmente gli abbia dato un motivo per continuare a vivere a Ciro cioè vendicarsi di Gennaro e probabilmente sulla sua famiglia sul clan Savastano su qualunque cosa Gennaro abbia toccato le mani questo è un motivo sufficiente per vendicarsi e paradossalmente adesso Gennaro se lo ritrova davanti con un motivo in più per per venire a a Napoli ossia Ciro non aveva intenzione più di tornare a Napoli ma adesso Gennaro gli ha offerto un nuovo motivo la vendita che è un motivo più forte che ci sia e da questo per questo punto di vista Gennaro ha fatto una cazzata infatti dopo alcune scenessi strazianti in cui Ciro giace sul letto in preda anche al non solo alla stanchezza ma anche alla depressione per essere per aver lui è convinto all'inizio che non capisce perché perché è stato confinato lì dentro perché lui sa di aver fatto tutto questo per proteggere Gennaro ma quando lo ingozzano a forza per impedirli di morire capisce che deve levarsi da lì e capisce anche che deve assolutamente vendicarsi e per questo simula la sua morte tentando appunto di impiccarsi con la sua giacca riesce a tramortire e poi in seguito a uccidere uno dei delle sue aguzzini e riesce a scappare con la sua pistola gli inseguimento abbastanza diciamo come dire riesce a sfondare uno un tombino per scappare dal filo spinato il che mi pare abbastanza strano ma comunque va bene lasciamolo correre riesce a scappare dalle guardie e seguzine anche dai loro cani con una barca che lo porta su un fiume che lo conduce in questo questo in questa roulotte con dei lettoni nativi del posto che appunto gli puntano il fucile addosso e gli chiedono che cosa faccia lì Ciro riesce a stringere una breve alleanza con questi lettoni e riesce a sconfiggere Isai non mi ricordo esattamente come si chiama il magnate russo ma quello che l'aveva consegnato a Gennaro riesce a ucciderlo insieme ai suoi complici grazie all'aiuto dei nativi lettoni dopodiché i lettoni lo portano a riga nel porto e Ciro aveva nascosto una borsa con il suo passaporte un sacco di soldi in caso credo qualcosa fosse andato storto consegna parte dei soldi ovviamente ai nativi lettoni che lo hanno aiutato e poi si dirige verso una nave presumibilmente la sua prossima direzione sarà Napoli per vendicarsi di Gennaro Savastano quindi questi due episodi ci possono dire che Gennaro psicologicamente è estremamente dipendente da Ciro ma questo lo sapevo già da moltissimo cioè che Gennaro non può far a meno di pensare a Ciro e questa è la sua più grande debolezza lui è fragile estremamente fragile per tutto il resto è un boss spietato crudele calcolatore manipolatore esattamente come Pietro Savastano ma c'è qualcosa che gli manca ossia non riesce a restare freddo calmo concentrato di fronte a Ciro di Marzio e questa è la sua più grande debolezza Ciro è la sua nevesi che ha voluto togliere dal mondo ma non ha capito che facendo così Ciro adesso è ancora più motivato per tornare a Napoli per vendicarsi quindi il caro Gennaro ha fatto una cazzata per quanto riguarda la regia pensavo che sarebbe diventato un po' più politically correct vista le precedenti critiche alla serie ma sono contento che sia rimasto lo stile delle precedenti quattro stagioni sono davvero felice di questo la regia è sempre fredda quando serve cruenta quando serve e questo mi fa moltissimo piacere e le musiche ovviamente di Mokadelic sono assolutamente brillanti alcune di esse ci sono della prima stagione e ve lo consiglio assolutamente le musiche sono qualcosa di spettacolare per un crime drama come questo e inoltre ovviamente Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono due attori assolutamente della madonna grandissimi attori in Australia a cui vanno i complimenti ma a parte questo andando appunto all'interno della serie sono convinto che in questo momento il nostro Ciro tornerà a Napoli per vendicarsi del buon Gennaro che non avrà sicuramente la vita facile quindi che cosa accadrà penso proprio che Ciro tornerà a Napoli e inizierà a fare mattanza di tutti i contatti di Gennaro mentre Gennaro tenterà di risolvere i suoi affari in maniera diversa anche perché il magnate russo non c'è più quindi la notizia lì sarà già arrivata quindi ragazzi direi che è tutto ditemi voi cosa ne pensate dei primi episodi qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao